I'm too sexy for my shirt Uomini che diventano donne, donne che si vestono da uomini ma rimangono donne, uomini che diventano donne e poi ritornano uomini Insomma la questione sessuale negli anime ha sempre rivestito un certo interesse Ma al di là delle preferenze sotto le lenzuola dei personaggi Quanti cartoni in cui incomprensioni, ambiguità, invenzioni della censura o semplicemente una sana confusione l'hanno fatta da padrone? A me vengono in mente questi Lady Oscar Il mese scorso si sono celebrati i 35 anni della prima messa in onda in Italia E puntualmente tutti a tirare fuori su internet la solita questione Chi è Oscar? È una donna? È omosessuale? È un travestito? Un transgender? Insomma, diciamolo subito È una donna Una donna? Etero Il padre aveva un maschio ma è nata lei Nell'anime la chiamano peraltro Madame Gella Oscar nella tradizione italiana Oscar si innamora prima di quella barbabietola svedese di Fersen E poi in modo più potente e tragico, come si vedrà alla fine, di André E ricordate la frase dello stesso André? Una rosa non può essere un lilla La principessa Zaffiro Qui è un filino più complicato, visto che non ricordo bene l'anime Anzi, se mi sapete dire dove posso trovare la serie, grazie Dunque, se non sbaglio, da quello che ricordo L'angelo Tink Cip Cioppi Non mi ricordo come si chiama Quell'angelo comunque a metà strada tra Peter Pan e Link di Zelda Dota il neonato della famiglia reale di Silverland di due cuori Uno maschile e uno femminile E così nasce sta frugola dall'aspetto femminile Ma dall'indole combattuta Con tutte le problematiche connesse Nel caso di Zaffiro la questione è legata apparentemente Solo alla successione dinastica Deve far prevalere la sua parte maschile Perché altrimenti il regno andrebbe al malvagio zio Perché il titolo si ereditava solo tra uomini Alla fine però tutto ritorna a posto Viene cambiata la legge E lei, nella quale prevarrà la parte femminile Potrà sposare il suo principe Franco Almeno ricordo una cosa del genere Negli anime poi c'è un altro aspetto Devo fingere di essere un uomo perché altrimenti non posso fare quello che voglio Pensiamo a Pat, la ragazza del baseball Che, anche qui ci facciamo aiutare dalla sigla Deve affrontare l'ostacolo di quel regolamento Che non ammette donne in squadra per giocare E almeno qui c'è in ballo un campionato Pensate a Giorgi che per partecipare a una imperdibile gara di lancio del boomerang Deve raccogliersi i capelli e far finta di essere un ragazzo Salvo poi rischiare di farsi limonare da Elisa Oppure quando si è fatta chiamare Gio si è imbarcata sulla nave Ed è rimasta quasi a seno scoperto prima di finire in acqua O che dire di Aramis che nell'anime è una donna E che si traveste da uomo per poter entrare nei moschettieri E poter vendicare l'uccisione dell'amato Insomma temi e confusione regnano spesso sovrani A volte causate dagli adattamenti italiani Pensate alle Sailor Starlight Che in Italia sono state trasformate in uomini Che quando si trasformano diventano le sorelle gemelle dei protagonisti Con le quali rimangono in contatto con il seme di stella Un espediente semplicissimo O ancora a volte si è pensato bene di fondere la sessualità dei personaggi Ed ecco che nasce il barone Asciura Metà uomo, metà donna Con la sua tragica genesi artificiale Che viene raccontata in uno degli ultimi complicatissimi ma bellissimi Mazzin Kaiser Oppure una sessualità intermittenza Come quella di Ranma In questo caso complice alla temperatura dell'acqua A cambiare era solamente il corpo L'indole invece rimaneva la stessa E ora come sempre tocca a voi Ricordate anime che potrebbero rientrare in questa categoria Che so Madwonsella Han con Ranmaru Oppure direttamente ci riguardiamo tutti quanti i bonbon magici di Lili E facciamo un bel ripasso Ciao